Nella stanza che i due veterani, Spano e Fragapane, avevano battezzato dei Carusi, si era radunata tutta la sezione reati contro la persona in attesa del capo. I quattro, appena rientrati dall'aeroporto, stavano mettendo a conoscenza il sovrintendente Munnari, l'unico che era rimasto in ufficio, di quello che erano riusciti a racimolare sul nuovo omicidio. Vanina infilò il corridoio proprio mentre il primo dirigente, Tito Macchia, usciva dalla sua stanza. Spano, la guarrasi quando arriva, stava chiedendo, stentoreo, prima di accorgersi di lei. Ciao capo, fece Vanina. L'uomo la accolse con un sorriso, barba scura più ordinata del solito, sigaro immancabilmente spento tra le labbra, stazza degna di Gulliver quando sbarca Lilliput. Bentornata. Grazie. Vanina entrò nel suo ufficio e andò subito ad aprire le imposte. Macchia la seguì. Mi dispiace per la mancata cattura della titante, so quanto ci tenevi, forse più di qualunque collega palermitano. Vanina alzò le mani in segno di stop mentre riprendeva possesso della sua poltrona dietro la scrivania. Grazie Tito, dispiace anche a me, però preferirei non parlarne. Adesso vorrei tornare alla vita reale. Macchia a noi. Hai saputo del cadavere all'aeroporto? Cambiò argomento. Sì, mi sono tenuta in contatto con Spano tutta la mattina. A naso non credo che sarà un caso semplice. Si è scoperto chi è, anzi chi era? Ci sono risaliti dai documenti dell'auto in cui l'hanno trovato, uno straniero con un nome spagnolo che ora non mi ricordo. Marta me l'ha raccontato per telefono mentre ero in riunione con quelli della sezione criminalità organizzata. Non ho ancora avuto il tempo di informarmi bene. Nel giro di mezzo minuto dalla stanza dei Carusi partì una processione. Spano e Marta si presentarono alla Guarrasi per primi, poi Lunari e infine Fragapane con lo faro alle Calcagna. La Buonazzoli la baciò e la abbracciò. Allora, picciotti miei, che mi raccontate? Feceva Nina, adagiandosi sullo schienale, tirando fuori una sigaretta. Macchia, che si era accomodato su una sedia davanti a lei, alzò il sopracciglio. Tito, perché non t'accendi il sigaro anche tu? Gli propose. Il dirigente si rassegnò. Accese il sigaro, ma chiese allo faro di aprire i vetri del balconcino. Ti vorrei far notare che fuori s'appiddica dal freddo, rilevò Vanina. Mo' pretendi troppo, Guarrà. Quando a Macchia usciva il napoletano, vorreva dire che non si discuteva più. Spano, particola relazione della mattinata. Perciò, dottoressa. Il morto si chiamava Esteban Torres, nato a Lavana il 3 febbraio del 1942. Le passò il telefono con la foto che aveva scattato. Vanina ingrandì l'immagine sulla faccia del morto. Anthony Quinn nella parte di Tiburon Mendez in revenge. Chissà se anche lui aveva avuto una moglie fredifraga da sfregiare e ridurre in fin di vita. Prosegue a Spano. Doppia cittadinanza, americana e italiana, ma residente in Svizzera. Ad Ascona per la precisione. Coniugato con un'italiana, niente figli. La Mercedes nella quale è stato ucciso era sua. Per qualche giorno alloggiò all'Hotel Palace, poi lasciò la stanza e da quel momento si perdono le tracce. Fino a stamattina, quando doveva imbarcarsi sul volo delle 8 e mezzo per Malpensa e aveva un volo di ritorno prenotato per dopodomani, da Malpensa per Catania. Questo è quanto siamo riusciti a sapere finora. Cuba, Stati Uniti, Svizzera. Te l'avevo detto, Vanì, che sto omicidio non mi pareva una cosa semplice. Chiosò il grande capo, avvolto nella nube di fumo che il suo Toscano stava producendo. Grazie a tutti.